La sanità non funziona senza infermieri, questo è il messaggio che lanciamo come ordine professionale di questa provincia. Ricordiamo che gli infermieri sono importanti nel sistema salute perché garantiscano l'accesso ai cittadini, è un sistema complesso, un sistema salute complesso che porta ovviamente tutte le criticità, ma che gli infermieri riescono ad accompagnare i cittadini e quindi a risolvere proprio grazie al loro rapporto che si instaura con i pazienti, un rapporto fiduciario che nel tempo si va consolidando. E partendo da questo slogan e dalla convinzione dell'importanza del loro ruolo nel sistema sanitario, che è stata celebrata anche a Barletta la giornata internazionale degli infermiere. L'occasione è stata quella di un evento formativo organizzato presso l'auditorium della parrocchia San Paolo Apostolo incentrato su contenzione e assistenza. L'obiettivo di oggi è quello di raggiungere un compromesso tra quelli che sono gli aspetti giuridici da osservare in ambito di contenzione, abbracciandoli poi anche a un tema etico, quindi valori, un tema morale e rifarci alla strutturazione del nuovo codice deontologico con l'articolo 35 in cui è previsto da parte dell'infermiere che riconosce la contenzione non come terapia, bensì come un atto che bisognerebbe porre in essere nel momento in cui sia veramente necessario. E oggi abbiamo visto un ampio ventaglio di casi in cui la contenzione è fortemente indicata perché bisogna sempre tutelare la salute ed il benessere del paziente. La giornata internazionale dell'infermiere celebrata a Barletta è un momento utile anche per rivendicare attenzione sulla professione e per far luce sulle numerose carenze e difficoltà vissute in Puglia. La situazione sicuramente in Puglia è migliorabile da tutti i punti di vista, sia dai modelli organizzativi che alcuni obsoleti che andrebbero rivisti e magari ridiscussi per dare più importanza ad esempio penso all'infermiere di comunità, all'infermiere di famiglia, quindi presidiare il territorio con più unità infermieristiche e garantire quel diritto di salute che molte volte viene meno proprio in un ambito, quello territoriale in cui i pazienti molte volte vengono lasciati soli.